Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del paese in misura di emergenza per contrastare la diffusione del coronavirus mentre restano al proprio posto dirigenti scolastici collaboratori personale ATA. Aule dunque vuote ma pulizia approfondita in tutti gli istituti con igienizzanti e prodotti che possano rendere gli ambienti sani con un'opera meticolosa che riguarda le aule, i bagni, i laboratori, gli apparati tecnologici. Una misura che riguarda scuole e istituti di ogni ordine e grado. A Lanciano i dirigenti dei quattro istituti che contano complessivamente 12 scuole dell'infanzia, 7 primarie e 4 medie hanno chiesto all'assessorato comunale all'istruzione di attingere alle scorte di detergenti e piccole attrezzature adatte alla pulizia approfondita, prodotti igienizzanti che stamattina sono stati puntualmente consegnati. Gli istituti superiori per i quali è competente la provincia di Chieti hanno provveduto invece con le loro forze. Si tratta di pulizia approfondita e non di sanificazione, provvedimento che riguarda solo i casi di contagio conclamati. Intanto i docenti si sono organizzati per non interrompere l'attività didattica ma di continuarla a distanza sfruttando al massimo le competenze digitali. Marcello Rosato dirigente scolastico dei licei classico e artistico di Lanciano. Ci tengo a sottolineare come la forza delle scuole la fa sicuramente la competenza degli insegnanti e la grande disponibilità. Per quanto riguarda i miei insegnanti posso dire che già da ieri si sono adoperati al massimo per mettere in campo tutte le loro forze usando tutti gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione, da D-DAP, di Argo fino a G Suite, a contatti anche telefonici e per email con i ragazzi. Al tempo stesso posso dire che i ragazzi stanno rispondendo alla grande. Quindi come sempre nei momenti di massima difficoltà la scuola in generale, gli insegnanti in particolare di tutte le scuole, non sicuramente se le del liceo classico e del liceo artistico di Lanciano, si stanno muovendo per dare una mano ai ragazzi e non interrompere il loro percorso formativo. Soprattutto in un momento dell'anno particolare per i ragazzi del quinto anno, i ragazzi che devono affrontare l'esame di Stato. Quindi questo è anche il mese in cui si somministrano le prove invalsi che per legge sono obbligatorie per i ragazzi delle quinte. Quindi anche l'invalsi ha allungato i tempi per la somministrazione delle prove. È un momento difficile, complicato, ma con la consueta sensibilità degli insegnanti di tutte le scuole ci si sta adoperando per andare incontro alle esigenze degli alunni.